Lotta contro la morte all'ospedale Cervello di Palermo il piccolo Francesco Cartaino di soli cinque anni. I medici non disperano anche se le sue condizioni sono grave. È una delle tre vittime del drammatico incidente di ieri pomeriggio avvenuto sull'autostrada Palermo-Mazzara all'altezza della diramazione per l'aeroporto padermitano Falcone-Borsellino. Un incidente costato la vita al fratellino minore di Francesco. Giovanni Cartaino avrebbe compiuto due anni il prossimo 13 di gennaio. I due bambini viaggiavano sulla Panda Bianca condotta dalla nonna Francesca Pecoraro, 58 anni. Si stavano recando alla casa di villeggiatura della famiglia dove avrebbero trascorso il capodanno. Proprio i bambini avevano chiesto di andare sull'auto della nonna che aveva imboccato l'autostrada seguita dalla vettura dei genitori dei piccoli, la mamma Alessandra, di 34 anni, il papà Michele, di 37, che hanno assistito al drammatico scontro. La nonna che sembra distratta per calmare i bambini manca lo svincolo, perde il controllo dell'auto e va a schiamtarsi secondo la ricostruzione fatta anche grazie alle dichiarazioni dei genitori. Proprio la nonna adesso è ricoverata con varie fratture, una commozione cerebrale ed uno schiacciamento toracico, ma le sue condizioni sono le meno gravi fra tutti. Da accertare ci sono ancora molte cose. Innanzitutto se il bambino viaggiasse sul sedile anteriore, poi quale ruolo abbia avuto l'asfalto resuviscito dalla pioggia, la velocità, le condizioni dell'auto certamente non nuova. Ma da accertare ci sono anche molti eventi che hanno fatto seguito all'incidente nella fase dei soccorsi. La prima sul posto, un'auto della stradale che si trovava a passare pochi istanti dopo il fatto sulla corsia di marcia opposta. A richiamare all'attenzione dei poliziotti alcuni passanti che si erano fermati in servizio sull'autostrada per Mazzara sembra ci fosse solo quella vettura. A soccorrere il piccolo Giovanni poi nell'immediatezza del fatto sembra sia stata un'ambulanza privata. Una serie di eventi animati dalla volontà di tutti di dare una mano, di aiutare, di prestare soccorso che però non sono bastati a evitare la tragedia.